Volevo tanto passare un attimino la parola a Luigi, Luigi Mikolis, che è uno sportivo, uno sportivo a tutti gli effetti, uno sportivo vegano, come ama chiamarsi lui, che è qui sì per dare la sua testimonianza, ma anche un po' per far vedere come di fatto importante è quello che noi facciamo con convinzione e non è vero che tutto sommato uno sportivo, come molte sono le paure, non possa nutrirsi in questo modo di un'alimentazione vegetale integrale che invece ricca, chiamiamola di proteine, così è. Vai Luigi, raccontaci la tua storia. Le benedette proteine nobili che poi nobili non sono. Lo scopo del mio intervento è appunto quello di sfatare il mito delle proteine animali mostrando i risultati che ho ottenuto nell'ambito sportivo in questi ultimi anni e che mi hanno permesso di ottenere una notevole energia, recupero e anche benessere a 360 gradi. Cercherò anche di fornire in questo breve intervento alcuni strumenti pratici da poter applicare da subito. Io mi occupo ormai di fitness, sono un personal trainer, un vegan coach, ma soprattutto sono uno sportivo. Sin da sempre ho praticato sport dalla pallacanestro, i primi trofei, le prime medagliette, poi arti di combattimento, arti marziali, box, pugilato. Diciamo che poi negli ultimi anni mi sono dedicato alla Sala Pesi. Vedo molti volti noti, molti volti amici, mi piacerebbe sapere chi mi conosce come vegan boy sulla pagina Facebook può alzare la mano. Benissimo, grazie. Allora, innanzitutto io sono molto onorato di essere qui oggi anche alla presenza di questi illustri personaggi a livello nazionale molto importante. Sono anche grato a voi di essere venuti qui. Vi racconterò alcuni aspetti salienti della mia vita che mi hanno permesso di attingere a queste informazioni e vi chiedo semplicemente di aprire la mente, suotare le tazze come dicono i maestri zen e aggiungo io aprire il vostro cuore. Tutte le informazioni sono comunque tuttavia basate su studi scientifici, sulla mia personale esperienza e su quella degli atleti, dei clienti, amici che io seguo nella mia attività di personal trainer. La mia storia, quella che vi racconto oggi nasce circa 5 anni e mezzo fa, mi laureavo in economia e commercio, lavoravo nell'ambito commerciale. Mio padre Giovanni, 58 anni, mostrava i primi seni di quella che poi è stata una malattia neurodegenerativa molto devastante. Io nel frattempo facevo il passo, il cambio di vita più importante, che ritengo il più importante, sceglievo di adottare un regime di alimentazione vegetariano, subito dopo un mese vegano. Mi rendevo conto che un meccanismo, una pratica così semplice e abitudinaria che facevo e ripetevo da 27 anni, in realtà fosse strettamente collegata alla nostra salute, soprattutto alla mia ma quella di mio padre. Questo è il punto su cui mi voglio soffermare, noi abbiamo completamente perso il senso della filiera alimentare. Lo diceva Feuerbach a fine ottocento, noi siamo ciò che mangiamo eppure non lo sappiamo più. A mia nonna di quasi 93 anni non sarebbe mai venuto in mente di mangiare carne tutti i giorni per più di una volta al giorno o di mangiare le fragole sulla tavola di Natale. Quindi diciamo vivevo una situazione molto strana in cui mio padre Giovanni si trasformava, lo portavamo in giro tra primari, ospedali, subari, Roma, Milano. Diciamo che i medici erano un attimino in disaccordo, non sapevano come diagnosticarla, se Alzheimer o demenza frontotemporale per via magari delle caratteristiche dell'età molto giovane, però erano tutti d'accordo sulla terapia allopatica da adottare. Io ho cercato, io sono il terzo figlio, l'ultimo figlio, unico figlio maschio, ho cercato di trovare una soluzione nel mio piccolo, di sperimentare e studiare. Indovinate qual è stato il primo testo di riferimento che mi ha permesso anche di essere qui oggi? È stato The China Study di Colin Campbell. È stato per me, io lo reputo, un testo monumentale, un testo che per me rappresenta un pilastro di questo mio percorso di conoscenze e di sperimentazioni. Mio padre, insomma, una persona molto estroversa, molto d'impatto caratterialmente, si trasformava in una persona silenziosa e depressa, quindi di conseguenza a casa nostra una famiglia comunque di cinque membri, anche vissuta magari nelle discussioni che capitano ogni giorno, diventava tutto un tratto silenziosa. Però quel silenzio ci offriva un'opportunità, quella di ascoltarci di più, cosa che noi non facciamo più. Non abbiamo il tempo di ascoltarci né noi stessi né gli altri, chi ci sta vicino. Allora se noi riusciamo, ci rendiamo conto che i tempi lavorativi, i ritmi sono completamente ribaltati, sono completamente diversi. Torniamo dal lavoro, se facciamo otto ore, bene che vada, se no sono dieci, dodici ore. Andiamo a fare la spesa, prendiamo le prime cose che ci capitano sott'occhio, che magari ci ha suggerito mamma televisione. Torniamo a casa, i figli davanti alla Playstation, se c'è un anziano sta guardando Barbara D'Urso, sta seguendo porta a porta, senza offesa per chi lo guarda. La moglie magari ha cucinato, ci sediamo a tavola, mangiamo, mangiamo meccanicamente, non sappiamo niente di quel cibo, non sappiamo la provenienza, non sappiamo la stagionalità. Prima non funzionava così, prima si mangiava i frutti dell'orto, i frutti che ci dava la terra. Si sono ribaltate un pochino le cose, quindi se noi ripartiamo dall'ascolto di noi stessi, siamo sicuramente degli esseri umani migliori perché possiamo comprendere che non ha senso uccidere 50 miliardi di animali l'anno. Non ha senso essere il 20% della popolazione mondiale che ha fama e che sfrutta l'80% delle risorse restanti. Nessun mezzo di trasporto via terra, via aerea, via mare può essere paragonato all'impatto dell'industria alimentare. Se noi comprendiamo questo, comprendiamo quanto una nostra singola scelta possa fare la differenza per tante persone e possa permettere alle persone anche di poter mangiare a chi non riesce a farlo. Quindi noi, ripeto, riusciamo a comprendere l'importanza della quotidianità, quando un singolo gesto semplice come fare la spesa possa essere un forte atto rivoluzionario. L'alimentazione è quello che ci accomuna tutti, senza distinzione di razza, sesso, provenienza. Se noi agiamo con coscienza ci sono più risorse e salute per tutti. Gandhi diceva al mondo c'è abbastanza per i bisogni di tutti, ma non per l'avidità di tutti. Quindi entravo a far parte della mia vita una nuova consapevolezza, un nuovo modo di vivere. Mi rendevo conto che non servono grandi gesti per fare i cambiamenti. Lo possiamo fare noi. La rivoluzione la facciamo nel piatto, ricordando sempre che non ci sono esseri di serie A ed esseri di serie B. Quindi dato che abbiamo due orecchie e una bocca, faremmo meglio a parlare di meno e ad ascoltarci di più. Grazie. Grazie Luigi, grazie. Sì, dopo il video lo mandiamo nella seconda, abbiamo un video poi che Luigi vuol farci molto breve, lo mandiamo magari subito dopo la pausa così riusciamo magari a soffermarci un pochino di più anche su questo punto, su questa storia, perché ritengo che sia importante quando il vissuto. E proprio perché parliamo di vissuto, allora occuperei questa famosa sedia che sembra che sia chissà chi, però di fatto lo è. Quando una testimonianza importante è, merita di essere condivisa nel modo migliore possibile. E quindi chiamerei sul palco con un grande appauso, visto che è un vostro concittadino, Maurizio Falasconi. Grazie Maurizio di essere qui. Grazie Maurizio perché... Va bene, rimaniamo in piedi, dai. Io sono in piedi da un po'. Allora, volevamo raccontare un pochino la tua storia, perché un po' come quella di Luigi nasce dal vissuto, dal concreto nel tuo caso però dal tuo vissuto personale. Diciamo, tu sei un atleta, tu sei uno sportivo da tanto tempo. Quanti anni hai? 45. E non sempre. 45 anni e come è nato questo tuo avvicinamento a questo mondo e a questo tipo di alimentazione? Allora, diciamo che è tutto cominciato quattro anni fa, nel 2011. Insieme a me. Insieme a te? Insieme a me, quattro anni fa. Abbiamo un elemento in comune, ma penso non soltanto questo. Dicevo, è il 28 luglio del 2011, in seguito io sono un ex calciatore, sono anche un personal trainer, un allenatore, un preparatore atletico. Diciamo che faccio sport esattamente da 40 anni, ho iniziato a cinque anni con il nuoto e da lì ho giocato a calcio 28 anni, ho allenato per altri quattro, parallelamente mi occupavo anche di preparazione atletica e di fitness. Succede che come un po' quasi tutti i calciatori, siccome il calcio non è uno sport per signorine, così insomma c'è questo luogo comune, ho subito diversi traumi e tra i vari traumi ne ho avuto uno che ha un po' fatto la somma dei precedenti e mi ha causato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio della gamba destra. A 38 anni decido di, o meglio, decido di smettere quando è nata mia figlia e di intraprendere poi la carriera di allenatore. Nel momento in cui inizio ad allenare, arrivo a un certo punto in cui non riuscivo proprio neanche più a svolgere quelle attività normali che sono anche giocare con una bimba di un anno e due anni perché il ginocchio me lo impediva. Quindi decido di operarmi. L'operazione avviene il 28 luglio del 2011. Per chi conosce l'operazione di ricostruzione dell'LCA sa che entri oggi dopo 24 ore ti dimettono. E in effetti così è stato. L'operazione apparentemente andò bene. Solo che a distanza di ulteriori 24 ore iniziai ad avere delle complicanze. Non ve la faccio troppo lunga. Io sono rientrato in ospedale e sono rimasto 28 giorni ricoverato. Durante questi 28 giorni ho subito altri tre interventi chirurgici di sala operatoria con tre anestesie con dosi di morfina che non vi dico perché i dolori erano atroci. Ho contratto prima una tromboflebite a causa di un errore da parte del medico, del chirurgo, dell'ortopedico e dopo a causa di alcuni interventi ambulatoriali che ho dovuto subire ho contratto un'artrite esettica. Quindi inizialmente sono stato messo in isolamento in una stanza da solo, ho iniziato a rischiare l'amputazione dell'arto e successivamente ho rischiato proprio la vita perché per esempio uno dei parametri, l'emoglobina, mi era arrivata a 5.6. Insomma se sapete quali sono i parametri di riferimento capirete la gravità di quel mio stato. E succede che, diciamo così, miracolosamente riesco a riprendermi da tutto questo, dai quattro interventi, dalle dosi di morfina, dalle... immaginate che io vivevo 24 ore su 24 con le flebo attaccate al braccio, chiaramente non mangiavo, non espletavo funzioni fisiologiche, ero una pianta, un vegetale che stava sul letto di ospedale. Antibiotici a non finire, non so se sicuramente gli ospiti medici conoscono la gentamicina, ma dosi da cavallo me ne fecero. Considerate che per somministrare la gentamicina ci fu un dibattito tra i medici, tra gli internisti, perché c'era chi era favorevole e chi invece non lo era, a causa delle ripercussioni sullo stato di salute che avrebbe dato quella dose di antibiotico. Quindi dicevo tutto questo dura 28 giorni, miracolosamente mi riprendo, esco dall'ospedale, ah e all'interno di questi 28 giorni subisco anche una trasfusione di sangue, ovviamente con l'emoglobina 5,6 ero più di là che di qua. Quando esco dall'ospedale sono un'altra persona, a livello fisico ho perso 12 chili, considerate che io sono sempre stato così facendo sport e anche diciamo per componente genetica non ho mai avuto una componente di massa grassa superiore all'11-12%, quindi quello che ho perso era esclusivamente tono muscolare, massa magra e il colorito della pelle. Insomma vi giuro un'altra persona, qui c'è mia madre e c'è la mia compagna, che possono testimoniare il fatto che io veramente non fossi più io, no non ero proprio più io. Anche a livello mentale ed emotivo, per chi come me aveva fatto del proprio fisico, diciamo così, utilizzo un termine bellico, ma era la mia arma, nel senso che io con il mio sport, oltre ad essere la mia vita, la mia passione, era anche il mio mezzo di sostentamento economico, era io la notte, ancora oggi mi sogno di giocare a calcio, cioè è un qualcosa che hai dentro, oggi faccio tutt'altro, però per dirvi se sei un atleta il tuo fisico è qualcosa in più, lo consideri un qualcosa che non è quello che hai, è quello che sei, quindi non riconoscerlo più proprio come aspetto visivo, non mi riconoscevo allo specchio e non riuscivo a spostarmi dal divano alla camera da letto, facevo fatica, perché ancora stavo continuando la cura antibiotica. Una compressa al giorno costava 90 euro, io 10 compresse non le ho pagate poi, me le fornì l'ospedale, però per dire la potenza di quell'antibiotico, di quello in compresse non ricordo più il nome, ne feci altre due scatole, quindi passai altri 20 giorni circa in cui fui colto da una depressione totale, mai conosciuta nei precedenti 40 anni, quindi un'altra persona completamente. Che succede però? Una volta ho sentito dire che l'essere umano ha due modalità per imparare le cose, una è la sofferenza e l'altra è l'intelligenza. Io ho avuto bisogno di una sofferenza, quindi in me succede un qualcosa di particolare, ovvero ero abbonato ad un sito web dove acquistavo sovente i libri, possiamo fare il nome? Si può fare, non si può fare, vabbè, mi arriva, non lo faccio, mi arriva a casa durante il ricovero, arrivò per posta il giornalino, avevo voglia di leggere, ho sempre letto molto, quindi io in quel momento mi sento una farmacia ambulante, prima si è parlato proprio di farmaci, l'associazione con lo stato di salute, io ero una farmacia che neanche camminava, che si sbatteva dal divano al letto e ho bisogno di disintossicarmi completamente, quindi cerco un testo che mi permettesse di capire come organizzare meglio i miei pasti, perché parto dall'alimentazione, perché la prima è probabilmente l'unica cosa che ho in quel momento, l'attività fisica non sono in grado di svolgerla, il pensiero che mi guidi in maniera positiva non sono in grado di farlo, non sono in grado di direzionarlo in quel senso, perché ripeto, vivo un momento di depressione, tra le decine e decine, centinaia di libri i miei occhi faccio come Luigi, indovinate dove vanno a cadere? Sul giallo a casa. Sul giallo. Non so se qualcuno di voi ha visto il film Hurricane, quello con Denzel Washington dove si narra la storia di Rubin Carter, il pugile di colore che negli anni sessanta viene ingiustamente accusato di un triplice omicidio, condannato a un doppio ergastolo e si fa vent'anni, diciannove errotti, di galera prima di poter essere scarcerato perché viene dimostrato la sua innocenza. Ebbene tutto nasce nella storia di Hurricane da un bambino, l'aneddoto di questo adolescente che viene affidato a dei servizi sociali, quindi con i suoi assistenti educatori va in un mercatino dei libri usati e non ha mai letto nessun libro. Gli occhi si posano sulla storia, la biografia che nel frattempo Rubin Carter aveva scritto dal carcere e prende quel libro, dice voglio questo. Allora successivamente nel corso del film poi dice ma come mai? Cioè tu non hai mai letto anziché prendere un libro per ragazzi, ma che cosa è successo? Evidentemente è stato il libro a scegliere me e non io il libro e questo è quello che è successo nel mio caso. Evidentemente è stato The China Study a scegliere me in quel momento storico della mia vita. Grazie Maurizio, grazie.